Non si vede però due parole sul ponte Castello, è un ponte molto antico, anticamente era in legno e allevatoio, poi successivamente dopo le varie guerre, soprattutto anche dopo la seconda guerra mondiale, fu ristaurato e ricostruito in pietra, ha questa arcata che richiama molto la venezianità di Adria in questo caso. Dobbiamo ricordare che Adria fino ai primi anni del Novecento, esattamente la data, il 1936, era composta da due quartieri, il quartiere della Cattedrale e il quartiere della Tomba, perché questo è il nostro attuale ramo del Canal Bianco, però dove adesso attualmente è Corso Massini, una volta era l'altra sfonda del Canal Bianco definita il Canalino. Questi due rami del Canal Bianco racchiudevano in sé l'isola di Adria, la quale è importante, dobbiamo ricordare.